L'elemento acqua. La vita emerge dai neri abissi dell'acqua, è sorgente di vita, la componente primordiale, il principio vitale, è mezzo di rigenerazione. Una piccola goccia contiene l'infinitamente grande, feconda la terra rendendola fertile, è simbolo del femminile, adattabile, passiva e ricettiva. Associata alla luna, l'astro che governa e trasforma per eccellenza, associata alla ciclicità, all'inconscio, dalle cui fasi dipendono le maree. Jung diceva, l'acqua in tutte le sue forme, in quanto mare, lago, fiume, fonte, una delle tipizzazioni più ricorrenti dell'inconscio, così come essa è anche la femminilità lunare che è l'aspetto più intimamente connesso all'acqua. L'acqua non ha una sua forma, ma prende forma e si trasforma continuamente, si adatta e si modella, e modella e trasforma. Simbolo del mondo interiore ed emotivo, è inafferrabile e sfuggente alle costrizioni e alla forza. Il suo essere cedevole può trasformare ogni cosa, ed è questa sua adattabilità che esprime la sua forza e la sua potenza. Penetra e si adegua e pazientemente trasforma. Senza adattabilità non vi è trasformazione. Ecco come bisogna essere. Bisogna essere come l'acqua, niente ostacoli, essa scorre. Trova una diga e allora si ferma. La diga si spezza, scorre di nuovo. In un recipiente quadrato è quadrata, in uno tondo è rotonda. Ecco perché più indispensabile di ogni altra cosa. Niente esiste al mondo più adattabile dell'acqua, e tuttavia, quando cade sul suolo, persistendo, niente può essere più forte di lei. Lao Tzu. Nella medicina cinese, l'emozione positiva legata all'elemento acqua è l'accettazione, quella negativa è la paura. La paura del cambiamento, dell'ignoto, legata alla stagione invernale in cui tutto muore, tutto rallenta, tutto sembra fermarsi. Senza comprendere che nella calma più assoluta, nella pazienza dell'accettazione e nel passaggio e trasformazione degli altri elementi, sotto la coltre di ghiaccio esiste la potenzialità del seme e della sua rinascita. Il mare, simbolo dell'inconscio, può essere agitato e colpire gli scogli che lo abitano, scuro e buio. Così l'uomo può vedere il cambiamento, in cui non trova i suoi punti fermi, in cui la paura regna sovrana, in cui vi è l'incapacità di abbandonare ciò che si conosce, nuotando controcorrente, rischiando di affogare pur di non cambiare, o lasciarsi trasportare dalle onde e dalla corrente finché il mare non si calma e torna limpido e ritrovare un nuovo equilibrio in nuovi lidi. La tua mente è come quest'acqua, amico mio, quando viene agitata diventa difficile vedere, ma se le permetti di calmarsi la risposta ti appare chiara, dal film Kung Fu Panda. L'acqua è rigenerazione, purificazione, è simbolo di risveglio, guarisce e ringiovanisce. Il diluvio universale segna metaforicamente la morte e la rinascita dell'umanità, il battesimo rigenera il corpo purificandolo dai peccati. L'acqua è il simbolo di vita e di morte, non a caso, nell'antichità, i villaggi venivano costruiti accanto ai corsi d'acqua per i trasporti, per l'agricoltura, legata alla nascita e alla rinascita. Immergersi nelle acque è un tornare alle origini, generando forza e purezza. Nel santuario di Delfi, i pellegrini, prima di poter consultare l'oracolo, dovevano purificarsi, facendo il bagno nella sorgente Castalia. L'acqua rigenera e purifica, trasformando l'essere umano in un nuovo uomo, dove muore e rinasce. L'acqua è potenza, calma e costanza. Una storia come la mia non andrebbe mai raccontata, perché il mio mondo è tanto proibito quanto fragile, senza i suoi misteri non può sopravvivere. Di certo non ero nata per una vita da geisha, come molte cose nella mia strana vita. Ci fui trasportata dalla corrente. Mia madre diceva sempre che mia sorella Satsu era come il legno, radicata al terreno come un albero sakura. Ma a me diceva che ero come l'acqua. L'acqua si scava la strada attraverso la pietra e quando è intrappolata, l'acqua si crea un nuovo varco, dal film Memorie di una geisha.